Vediamo quanta gente gira a Carone K. Magica il 28 marzo. Facciamo girare più in fondo. Abbiamo anche a sinistra. Siamo sul lungomare di Carone. Ore 7.34. Siamo in un po' di traffico. Ma che liscio. Siamo in un po' di liscio. Tanto, tanto inzendo insieme al cammino. Famiglie. Tappo, tappo, tappo. Dovrebbe essere fine marzo. C'è un saluto. Ragazzi. Ma anche gli stranieri pagano il biglietto aereo di meno. Il tassisti più cari. La loro posizione. Vedete. C'è Onion. Pasele. C'è oggi nelio. Intentare Mystery野 살� Heathenese. Attiva la salita. Èそlvainosinima ed Goodbye. Scasera Mission. Dovrebbe essere più idedicato. Di fronti. Scono. Cosa ne dite in giro quest'ora, ce li sediamo a Cata, vedete anche qua c'è gente in giro, i negozi iniziamo ai ristoranti, c'è gente in giro. Non è strapieno ma c'è gente, fa un po' di meno, ricordate che sono sette e mezza e magari non sono ancora usciti tutti, ecco quanta gente c'è in giro. Mistorantini qua, non sono ancora usciti. Zona Stadio Tutucca esce Abbiamo messo a del Carron, andiamo in Cata, ha riaperto il Dino Park ragazzi, è tanto da dare questo, è tutto spento però, che è successo? C'è blackout, c'è blackout, c'è blackout, ci sono tutti in buio qua, blackout, vedete che è riaperto il Dino Park, ci sono gli elettrici al lavoro, vedete, blackout, blackout in Cata Center. Sontite E su, rialzo. Bello pieno anche lui. scendiamo giù a k7 in pronuncio di k7 queste latette guidano tutti un po alla loro maniera abbrante scarpe ci sono fuori dal centro massaggi grandi catasi food l'ozzo è la più la scoperta più piacevole quest'anno veramente un bel berghetto sono un milione di motori naturalmente ma un po' meno gente questa è una macchina nuova proprio di andare senza freccia senza freccia starei molto attenti qua a guidare noi andiamo a 32 più 30 km di orari non guardiamo nessun rischio qualche volta siete qua che c'era pan square c'è un bel po' di gente in giro a un coccano vediamo massimo no massimo cosa dice eh c'è 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 vai vai che è tutta la strada è tutta tua la strada vai ciao 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 sono ciao ciao c'è ancora tant'agentra c'è il mercatino una bellezza il mio beyond la mia seconda casa questo è imballato mamma mia ragazza l'incrocio dell'italian job nessuno c'è tutti a mangiare c'è uno dei channel line flora la copta nord sembra di andare fuori la litte 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 qua c'è un bel ristorantino scatta on fire vedete c'è sempre gente qua sempre è molto rustico molto familiare proprio questo che fa il barbecue di carne tutti i giorni noi arriviamo da eddi casa mare mio amico mio grande amico che sta per tornare in italia e poi in grecia grecia la pizzeria anche in grecia finisce la stagione qua poi tornavamo qua siamo vicino a tutto ma fuori da tutto è la via ideale è la via ideale c'è un po' un po' un po' incastrato dentro l'estero santino santuzzo guarda dove l'istambuluturk è tutto bloccato da quelli delle barche vedono sta rientrando un motoscafo e ora incasina tutto e qua siamo arrivati all'agenzia lo saliamo sul marciapiede e qua ci sono io ok punto di escursione ragazzi ciao a tutti vado ad andare a mangiare ai miei gatti che ho qua due gatti l'agenzia ci vediamo al prossimo video bye bye